Il sito davidemaggio.it a svelare quale sarebbe la data di inizio di Temptation Island VIP 2018. Secondo quanto riportato, la prima puntata del reality dovrebbe andare in onda su canale 5 martedì 18 settembre. Se la notizia dovesse essere ufficializzata, il programma di Simona Ventura si scontrerebbe con la serie televisiva Una Pallottola nel cuore 3.Temptation Island VIP 2018 scalda i motori. Manca ormai poco all'arrivo del reality su canale 5. Sulla prima edizione caratterizzata da volti noti, si sa ormai quasi tutto. Si conoscono, infatti, i nomi delle sei coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti, l'identità dei tentatori e delle tentatrici e il fatto che al timone del reality ci sarà Simona Ventura. Al momento, solo la data di inizio non è stata ancora comunicata ufficialmente. Secondo davidemaggio.it, però, il reality dovrebbe fare il suo esordio su canale 5 martedì 18 settembre. La sfida con una pallottola nel cuore solo qualche settimana fa, circolava l'indiscrezione di una partenza ormai slittata a ottobre. In queste ore, invece, il sito davidemaggio.it afferma con certezza possiamo dirvi che il giorno fissato per la partenza è martedì 18 settembre. Il reality, dunque, dovrebbe collocarsi nella prima serata del martedì. Nello stesso giorno, la concorrenza di Rai 1 trasmetterà la terza stagione della fiction con Gigi Proietti una pallottola nel cuore. La serie comincerà una settimana prima rispetto al reality. Avrà inizio, infatti, martedì 11 settembre. Per conoscere con certezza la data di inizio di Temptation Island VIP 2018 non resta che attendere la comunicazione ufficiale. Le sei coppie di Temptation Island VIP 2018 apostrofo Le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione nel programma Temptation Island VIP 2018 vengono principalmente dal mondo dello spettacolo, ma anche dello sport e dell'imprenditoria. A testare il loro amore saranno Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Sossio Aruta e Ursula Bernardo, Nilu Faradati e Giordano Mezzocchi, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Fabio Esposito e Marcella Esposito. I tentatori di Temptation Island VIP 2018 apostrofo I 23 tentatori di Temptation Island VIP 2018 sono Laura Bragato, Barbara Fumagalli, Laura Cremaschi, Eriona Suleimani, Emma Dalla Benedetta, Elena Berlato, Martina Dattola, Ausra Belecaite, Sara Melucci, Federica Ciocci, Carla Cinciripi, Davide Rossi, Francesco Chiofalo, Ivan González, Giorgio Alfieri, Nicolò Rangiolo, Nicolo Ferrari, Andrea Gerioli, Pierpaolo Prett. Diario